Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, in questo video volevo mostrarvi il set di due pezzi frigo box nuvoletta quadrato che ho ricevuto al supermercato super rispammioso come ho detto precedentemente nel video dove mostravo il volantino con ogni 25 euro di spesa, aggiungendo solo un euro, potevamo ricevere questo splendido set andiamo a vedere il set come si presenta questa è la ciotola un po' più piccola, sempre munita di coperchio e poi abbiamo questa qua un po' più grande devo dire che sono molto utili queste ciotole in cucina veramente sono bellissime poi è un'aggiunta veramente minima poi 25 euro si fanno subito nel supermercato penso che lo sapete meglio di me quindi spero che anche nelle vostre parti si trova questo supermercato in modo da soffrire anche voi di questo fantastico set che dire, spero che questo video vi sia stato utile lasciate un like, iscrivetevi al canale e come sempre noi ci rivediamo in un prossimo video